mesi almeno finché l'attore di questa guerra, l'iniziatore di questa guerra, l'aggressore cioè il presidente Biden non capirà che questo tipo di operazione che consisteva nell'aggredire perché aggredire viene dal latino una particella ad che vuol dire verso e gradior avanzare verso, ora quella di Putin nei confronti dell'Ucraina non è propriamente un'aggressione, è un attacco, è un assalto chiamiamolo pure in tedesco e così fa più paura, è una strafexpedition, è una spedizione punitiva però non è un'aggressione, l'aggressione consiste in una manovra ampia di avvolgimento è esattamente quello che gli Stati Uniti tramite la Nato hanno fatto contro promesse esplicitamente fatte anche se non formalizzate per iscritto e noi ne diamo conto in questo libro di non non muovere la linea di fuoco perché di questo si tratta la linea di fuoco